o salve dare valeri eccoci qui dopo una vita su against the storm come sempre io sono l'arax di kormaris e nello scorso episodio ci eravamo lasciati con nemmeno ricordo cosa perchè è È passata letteralmente una maledetta vita, veramente una maledetta vita. Quindi, a parte questo, direi che prima di tutto ci sblocchiamo piazza e cancello, ok, così almeno questa linea è completa, la prossima da sbloccare sarà l'archivio e questo qui, ma lo dico come se ci fosse un continuo, ma l'avete visto un po' anche già dal titolo dell'episodio. Allora, perché la fine? L'analizziamo ora pian piano. Prima di tutto, uovo di uccello della tempesta. Mentre si fa strada nella selva, la tua provana trova un uovo di uccello della tempesta e il suo... il tuo insito... Hai il tuo insito, il tuo istinto. Ti urla di lasciarlo dov'è e scappare prima che torni la madre, ma... Chi non ha mai sognato di avere un uccello della tempesta come animale domestico? Meno due determinazioni durante la tempesta per due partite, ottieni 30 uova. Effetto rituale, ottieni una benedizione. Ma lo ignorerei bellamente, 30 uova e me ne faccio il cazzo, come si può dire. Capito di stessa non posso propriamente lavorarci qui sopra. E quindi armeria in rovina, una grande vecchia armeria banata dopo la grande guerra civile. Nessun abitante morirà attaccando un mercante. Carina come idea, peccato che noi non ne abbiamo mai fondamentalmente attaccati. Quindi perché no? Ci stiabiliamo qui con sicuramente, assolutamente, i miei bellissimi... come si chiamano, castori, assolutamente, con tre abitanti in più, della pietra e delle verdure prenderei onestamente. Sì, vada di verdure. Ah, cazzo. No, ho ancora qua. Ah, ancora punti da spendere. Non me lo aspettavo. Allora, perché no? Mi dai le 24 uova. Anche se in realtà non sapremo chi sarà il terzo, quindi suppongo più per le radici. Ok, la chiamiamo end con molta, poca, poca, poca fantasia. Allora, perché questa scelta, signori? Iniziamo col dire che effettivamente è durata da un bel po'. Credo di aver esplorato anche molti lati di questo gioco e di cui ne sono pragmaticamente felice. Ma il fatto che, come avete visto, tende a essere estremamente roguelite, diciamo così, no, è proprio rogue cattivo, il punto mi porta a dire che, prima di tutto, il gioco fondamentalmente non ha fine. Certo, ci sarebbe il momento in cui, man mano che si scala e si chiudono i sigilli, chiudendo l'ultimo sigillo, si diventa a mano della regina. E poi si sblocca un'altra modalità dove bisogna ricominciare tutto da capo, che sarà praticamente una modalità estrema, fondamentalmente. Questo lo dico perché, perché di fondo non ha fine, quindi bene o male questo momento sarebbe arrivato. Non pensavo sarebbe arrivato così subito, ok? Però per varie questioni familiari sono stato costretto a interrompere un po' la sezione di gaming, diciamo così, e questo mi ha portato un po' a perdere l'abitudine. Il fatto che ho fallito due volte il sigillo non è che mi ha demoralizzato, ma perlomeno mi ha fatto capire che, comunque bene o male, sarebbe stata semplicemente una questione di tempo prima che il tutto sarebbe bellamente finito di cattiveria. E un po' mi dispiace, per l'amore del cielo, innegabile che mi dispiace, però è anche vero che è in un certo senso necessario arrivare a questa conclusione. E il fatto che la stia anticipando così velocemente non è dovuto principalmente a mia pigrizia, o tantomeno vorrei dirvi perché il gioco è brutto o diventato eccessivamente ripetitivo, ma più pragmaticamente perché oramai ho potuto notare che, come potrei dirvi, mi è venuto annoia. Non per cattiveria, ma perché semplicemente il gioco a lungo andare tende, proprio per questa componente, a essere tremendamente ostile con il giocatore e porta questo a essere automaticamente, tremendamente, ti porta in una dinamica tremendamente di ripetizione, che magari per voi, ripeto, che vedete il gioco, può essere anche bello, può essere anche divertente. Per me che lo gioco, onestamente, molto meno. Ripeto tutto questo, non per mia supponenza o cattiveria, ma anche per il semplice fatto che oggettivamente non è propriamente il mio titolo, non è il mio genere, ok? Ciò non vuol dire che non mi piaccia giocarlo, anzi sì, mi piace giocarlo, però questo mi porta a non giocarci sempre, comunque in ogni caso, avere un sorriso smaliante. Quello lo predispongo per lo più che solo per il GDR, ciò non vuol dire che non bisogna esplorare o apprezzare altre cose, tantomeno portarci serie, però... Dopo questa bella, anche lunga serie, perché nonostante siano una trentina di episodi, credo, alla fine, comunque c'è da dire che siamo arrivati bellamente a un'ora di episodio ciascuno, quindi sono trenta ore, sì, in trenta ore di gioco si finisce... si finiscono molti giochi in trenta ore, magari proprio in trenta no, però anche solo quaranta, veramente tanta roba. Quindi per questo vi posso dire, insomma, in magna massima, che ho preso questa decisione, anche perché vorrei lasciare spazio ad altre serie, che potrebbero risultare anche molto più interessanti, anche perché, ripeto, quello è il problema, non è il gioco in sé per sé, che è ripetitivo, lo è diventato con il tempo, e questo mi dispiace moltissimo, perché comunque le dinamiche sono molto bassate, perché di sé per sé non è che mi dà fastidio il costruire ogni volta lo stesso insediamento, no, quello che mi dà fastidio è la concezione di sbaglia, 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 fino a quando non avrai fondamentalmente abbastanza risorse per potenziarti e andare avanti, e voi mi direte, eh, però, potevi giocartela meglio, sì, vero, peccato che come sapete, o se non lo sapete ora che lo dico, magari perché ho visto altre serie, lo sai, il mio scopo in un gioco non è mai quello di diventare un pro player, ma è quello di farmi raccontare una storia, di avere del divertimento completando quest'ultima, e quindi per questo vi dico che non è minimamente nel mio area di interesse portare e in generale assolvere a questioni anche, come potremmo dire, di natura di migliorie di gameplay assoluto, perché non mi interessa diventare il master giocatore del secolo, cioè non vuol dire che gioco a cazzo di cane, cioè del resto se siamo arrivati fino ad ora vuol dire che almeno il gioco l'ho capito come funziona, molte meccaniche, per amore del cielo, mi sono ancora chiaramente oscure, però vedete, questa concezione di devi diventare pro player o devi farmare come una bestia per andare avanti, mi fiacca, mi fiacca anche molto, non dico per forza che sia brutta, anche perché ne sto dando chiaramente una descrizione negativa, lo ammetto con assoluta tranquillità, sono messo intellettualmente, e... in questo caso, quindi vi dico con assoluta tranquillità che sì, bello, ma non propriamente in questi giorni, più di tutti mi ha dato l'idea di non essere propriamente il mio tipo di gioco, anche perché più di tutti ho potuto notare che man mano che andava avanti, gli episodi cominciavano automaticamente, tristemente, a diventare più pesanti. ottieni tre barili, questo è utilissimo, e a parte questo qui, quindi ce ne inviamo due, ne abbiamo un altro a lavorare? Sì, ricordavo bene, così almeno finisce prima, e non avremo sbattimenti. Quindi, fondamentalmente, era questa tutta l'assoluta discussione, che ne volevo tirare fuori, avevo bisogno di dirvi assolutamente, innegabilmente, ripeto, non prendiamoci per il culo, la situazione stava virando verso questa linea, e innegabilmente, ho provato il più possibile a variare, cambiare, ritardare, però, anche semplicemente il mio periodo di assenza, appunto, come stavo accennando prima, mi ha fatto perdere la concezione di molte dinamiche, di molti modi di concepire e di sviluppare un avamposto, o comunque fondamentalmente di giocare, che mi ha portato a dire, oggettivamente, non mi va di riniziare, ripeto, tutto questo non per mia pigrizia, perché comunque, so che mi sembro magari un po' ripetitivo quando faccio questa roba, però, ci tengo a sottenere che non è una questione semplicemente di dire, ah vabbè, non mi va di farlo, non lo faccio, anche perché, reputo che anche, come vi ho sempre detto, esercitarsi un minimo, nel gameplay, anche quando si gioca, fondamentalmente non nel gameplay, ad avere abitudini sane, possiamo dire così, tra molte parentesi, sia fondamentale, quindi se tu inizi un gioco perché ti piace, ti interessa e tutto il resto, e man mano perdi la voglia, è lì più importante darci sotto, e continuare, ci ho dato sotto, ho continuato, e lì ho superato la mia noia, cioè non era più una questione di noia, effettivamente mi diverte il gioco, l'unica differenza è che oramai lo reputo un po' eccessivamente ripetitivo, è questo fondamentalmente il problema, ragazzi, lo dico più che altro per evitare, sempre le solite concezioni, ah ma il lì non ti va, no, perché appunto è necessario, alle volte forzarsi anche, a giocare, ma non perché devi essere un eroe, devi fare lo sforzo assoluto, perché più semplicemente di tutti, è giusto, che anche in queste occasioni, si prenda la concezione, che è un impegno, quello che ti sei preso, volente o nolente, ed è giusto che lo porti a compimento, quantomeno, se non lo porti a compimento, lo fai nella maniera più, giusta possibile, se vogliamo dire così, mentre qui come vedete, sto costruendo anche il carbone, principalmente per occuparmi di questa richiesta, e direi che ora più che mai, vi scostate qui, e mi fate un bel buco, tra l'altro ho dimenticato, di mettere una bella stazione commerciale, la buttiamo qua dietro, ok, fondamentale, costruita al contrario, chi se ne frega va bene così, però non li sto sbloccando questi, li sbloccherò man mano, che magari troverò risorse, o nidi, nodi, che nidi, nodi di risorse, utili alla creazione di altro, non ha senso che me li sblocco ora tutti e cinque, perché tanto, tanto la situazione non potrà che andare calando, quindi, ci conviene assolutamente prepararci, appena abbiamo, soprattutto perché qui ci serve, un boato di spazio, c'è da dire, ci serve un boato di spazio, quindi assolutamente reputo necessario, che il prima possibile, mi si liberi l'area, infatti metto uno qui, e tu, ti puoi spostare, qui, e iniziate a liberare, tutta questa fantastica area, ok, qui abbiamo un bel cimitero, ottieni 20 ostilità per 60 secondi, ma chi se l'incula, brucia tutto come non mai, 1 e 2, soprattutto ora che è appena uscita la, nebbiolina qui in mezzo, ok, qui nel mentre liberiamo, e possiamo iniziare anche ad affrontare, un mezzo partire industriale, volendo, 4 e 1, mi sembra più che appropriato, uh, amico mio, puoi tornare nel tuo, luogo di disperazione e tristezza, con gli artigli della fenicio, ottieni 2 essenza di incendio, per ogni 2 eventi, radura pericolosa o proibita completata, ok, risorse che sacrifica il focolare, brucia un 5% più a lungo, per ogni punto in pazienza che hai, ah, non è male, però in questo caso non credo che, oggettivamente la legna sia un problema, ora come ora, come sempre, andiamoci a distruggere, quattro quadratini, per andare a impostare, eh, il nostro, famosissimi, quattro barili della felicità, così almeno, facciamo salire almeno di un livello, il nostro bellissimo quartiere, ok, qui ne piazzi un altro, e, eh, qui siamo costretti a mettere un'altra serie di appartamenti, ripari, quantomeno, qui, solita roba, così almeno diamo un riparo a tutti, e, evitiamo che, durante la prossima tempesta, la gente, scappi via, è la maniera migliore che abbiamo per, arginare, suddetta questione, allora, qui ce ne servono quattro, le persone le abbiamo, costruite tutte le strade, che reputate necessarie, anzi, non che reputate necessarie, che io vi impongo necessarie, e, potremmo iniziarlo qui da accampamento, banchi di, da lavoro, non mi dispiacerebbe affatto, eh, uno, due, stazione improvvisata, tre, uno, due, perfetto, ci mancano un po' di persone, però, credo che man mano, riusciremo a trovarle, anche con una certa tranquillità, qui, l'altro evento, l'abbiamo risolto, anche con una, potrei dire, degna tranquillità, e, a dare un'occhiata, eh, dio, non mi immaginavo, questa, botta, mi dai la piantagione, mantelli, porrige sotto aceti, può essere utile, lo prendiamo, carbone mattone, mattone ceramica, no, carne seccata e ceramica, no, tessuto, attrezzatura e pacco per i beni, nè, ok, eh, tempo libero e lusso, questa è utile, ma come anche la tintoria, ci serve, perché abbiamo le bacche, abbiamo le botti, possiamo produrre il vino, eh, vaffanculo, potevo, prendevo questa a questo punto, non possiamo ancora cambiare, e va bene, ma in realtà non va bene per un cazzo, però, facciamo finita che vada bene, 10 mantelli si può fare, radure, sicuramente lo farò a breve, tra l'altro due radure, una dopo l'altra, è altrettanto easy da sistemare, direi che questi ce li facciamo al prossimo incarico, l'unico problema è che stiamo finendo il cibo, o più concretamente, ah no dai, qui un'altra scorta ce l'abbiamo, più concretamente abbiamo finito il cibo, ok, vai a raccogliere prima quelle lì, quante persone senza fare un cazzo? 6, 1 e 2, 1 e 2, qui me ne metti 1, perché mi serve pacchi di materiali edili, e mi usi tutto, giusto, altre case l'abbiamo finito, ti è becca qua, ci serve materiali edili per ora, solo materiali edili, qui, altri due, questo almeno prendiamo l'acqua, nonostante per il momento non abbiamo ancora nessun sito o altro, che utilizzi l'acqua, quindi produci del tessuto, produci dei mattoni, e per ora le tubature, no, qui stessa cosa, produci del tessuto, no cazzo ho preso quello di prima, ok, solita roba, qui potrebbero mettere tipo un'impostazione standard, per usare soliti materiali, no, no, non è che non usi niente, usi la pietra chiaramente, ok, tutti che lavorano in bella posa, e così facendo potremmo anche iniziare a pensare di instaurare un primo, come potrei dire, portare a livello 2 e iniziare la sezione, la sezione abitativa, quindi andando qui ci serve, comodità e decorazioni, ne abbiamo uno che fa livello 4 direttamente, 4 decorazioni, perfetto, lo mettiamo qui, e intorno ci mettiamo le classiche panchine, oppure ci potremmo mettere direttamente una staccionata, perché no, 1, 2, 3, 4, ma no, meglio le panchine onestamente, preferirei le panchine, ok, 1, 2, 3, 4, magnifico, così con questo portiamo anche il fuocolare a un livello superiore, e possiamo iniziare a costruire un botto di case per tutte le varie razze presenti qui, quindi mi posizioni le case dei castori, e purtroppo nemmeno ne possiamo mettere troppe per la situazione che abbiamo creato, decisamente poco comoda, decisamente, ci servirebbe molto quel potenziamento che ci permette di creare le casse, come si chiamano, non mi viene il termine, che ci permette di mettere più abitanti nella stessa casa, ok, qui, stessa roba, 1 e 2, 1 e 2, le case dei volpi non credo di averle a disposizione ancora, per ora questo dovrebbe bastare, tra parentesi, teoricamente dovrebbe bastare, che mi dà una bella priorità 5, ok, questa la state costruendo, priorità 5 e priorità 5, così almeno il fuocolare lo prendiamo subito a livelli alti, anche perché oggettivamente ora tutti hanno la casa, quello che dobbiamo fare è semplicemente potenziare il fuocolare, così durante la notte saranno più coperti, sicuri, tranquilli, non ne ho ben idea cosa faranno, però staranno bene, insomma, e se non stanno bene, lì faremo stare bene, in seguito direi che qui possiamo iniziare anche a costruire la trattoria, anche se fino a quando non troviamo un campo coltivabile, serve veramente a ben poco, serve oggettivamente veramente a ben poco, quasi a niente, a dire la verità, però sono ben lieto di come sta venendo la situazione, chi è che appunto è tutto, tu, infatti ti mettiamo qua immediatamente, abbiamo ancora le verdure, certo che abbiamo le verdure, è magnifico, andate a esaminare questo luogo, e ti direi più di tutti, tu ti sposti qui, dicevo signori, perdonatemi, per le solite brevi inutili interruzioni, tra l'altro vediamo cos'altro ci propone l'amico, sì, carine le cose, ma mi servirebbe uno, un mezzo terreno fertile, che spero i nostri amici ci daranno, due, spero vivamente di riuscire a trovare qualcosa di effettivamente caruccio, allora sì, radetemi al suolo tutto questo, magnifico, e dovremmo fare anche i due cosi, esplorare due lande, mensa e tutto, ma fa cagare oggettivamente come roba, cosa vi succede ragazzi? Ah, determinazione meno due, effetti della specie, determinazione meno cinque, gli abitanti con questo effetto, indumenti fratici, aaaaaa, ma dimmelo prima, vabbè diciamo che alla fine l'abbiamo sistemato per il meglio, ok, shbam, ora abbiamo anche un'altra interessante zona industriale, se ho sbloccato giusto, devo di aver sbloccato in maniera, ah rifugio, no il rifugio della foresta è utile, utile per amor del cielo, ma in questo caso, un po' pragmaticamente difficile, da accostare se vogliamo così dire, dov'è l'altra capanna? Eccola qui, qui mi metti un castoro, e qui me ne metti due, perfetto, amico bello, questo mi servirebbe, e quindi ti venderò delle erbe, delle uova, sei attrezzi, a quanto me li fai? 8, ma non raggiungerò mai il 15, quindi mi spiace perderlo, ma va così purtroppo, va così, per usare in antipcio, rende il mio molto più facile, scopri una radura piccola, aumenta il 50% della velocità di lavoro, degli esploratori che indagano sugli eventi, la radura pericoloso proibita per 180 secondi, fattori, foratori della nebbia, ti è permesso usare i leggendari foratori della nebbia, con un due lottale, le disposizioni di regina sono alte, il contenuto delle radure sarà rilevelato, in alcune radure è possibile trovare una quantità insolita di rifornimenti, ottieni 40 carne e 40 cellulare, magari per ogni evento radura pericoloso proibita, eccezioni di eventi, ma va questo io sembra utile, devo almeno ottenere 5, per cambiare qui qualcosa, quindi boh, vivendo le uova, ok, dovrebbero bastare, 6 e 25, che taccagno di merda che sei, ok, perché vorrei cambiare qui, sì, taverna, strumenti, può essere utile, ma si strumenti è ancora meglio, accampamento di erbalisti, non ci dispiace, se almeno possiamo iniziare a raccogliere queste zone, tralasciando che vabbè abbiamo una quantità di funghi esorbitante, però almeno se ne raccogliamo tanti, possiamo iniziare a usare propri funghi come moneta di scambio con i mercanti, per ottenere più monete possibile, tralasciando che qui mi dai assolutamente più castori, ne abbiamo un'assoluta necessità, ok, 1, e vi dispiace focalizzarvi, soprattutto tu, non su tutta questa roba, ma sull'esplorare la radura te ne sarei tanto grato, qui ci serve espandere questa situazione qui, ok, visto che ci siamo, facciamo una bella 180, uno dopo l'altro, possiamo piazzare una qui, sbilenca, no eh, vabbè, me la piazzerei qui, e facciamo belle due, in rapida successione, ok, così almeno vediamo di riuscire a risolvere, in maniera molto veloce, qui ce ne servono 8, però ci da 3 tavolette, quindi atterrei da parte, qui 3, 0, 5, non male, non male, qui qual è il problema, ah, loro, vabbè, sapessi, tempo, 3 minuti, andremmo proprio a filo, andremmo proprio a filo, quindi facciamo una bella cosa, togliamo loro due, e mettiamo loro due, andremmo proprio a filo, ma dovrebbe andare bene, tutto sommato, qui iniziamo anche, perché no, iniziare una bella taverna, e un bel laboratorio di carpenteria, ok, forse no, forse lo mettiamo accanto alla taverna, ecco, qui sotto, ah, stessa roba di prima, vabbè, però questo può aspettare tranquillamente, oggettivamente, completiamo quest'altro bel evento, 22, la determinazione dei castori, che ora è a 7, sicuramente non può che andare meglio, e ne siamo costretti a prendere questa, 50 e 50, utilizza o consegna, ok, consegna, mi stavo preoccupando, riserva acqua della tempesta, va bene effettivamente che la tempesta dura oggettivamente poco, ma dovremmo anche riuscircela, in una certa semplicità, un minuto e lì abbiamo finito, e siamo a cavallo, ok, qui per il resto, mettetevi a lavorare questa zona, distruggere tutti gli alberelli qui, qui siamo più che a posto, volendo abbiamo anche un altro totale appoggio, mettiamo due persone pure qui a lavorare, e avremmo anche, la necessità, effettiva, di creare, delle strutture, possiamo dire così, qui interrompi, atte alla proliferazione, alla produzione, se vogliamo anche, no, qui ci servono altri taglialegna, per il momento, vabbè sì, uno sai che ti dico, lo lasciamo, tanto ci servono solo 8 pezzi di carbone, ecco, già ce ne ha dati 28, possiamo consegnare quest'altro, e andiamo a cavallo così, di assoluta e totale tranquillità, veramente, come ci stiamo riuscendo noi, nessuno, nessuno, ma noi stiamo anche guadagnando ottimi risultati, e c'è da dire, abbiamo quello che ci serve, qui mi fai quest'altra consegna, bella veloce, abbiamo cioè, il, la piantagione, così possiamo iniziare tranquillamente, da produrre vino, anche con una certa, adeguata felicità, potrei dire, ok, l'unica cosa che ci serve per ora, qualcuno che si piazza qui, e ci dà, almeno la possibilità, di liberare quest'area, infatti credo che li sposterò, tutti in questa zona, lo reputo necessario, ok, quantomeno ci danno lo spazio, per creare una strada, che sarebbe cosa buona, e giusta, qui tutto sommato, sta calando un po', con la nostra determinazione, ma teoricamente, dovrebbe funzionare, la produzione di porrigi, aumenta più 1%, 150 unità di acqua, da proigine prodotta, il cibo riferito, di ogni agricoltore, i agricoltori, hanno un 75% di probabilità, di raddoppiare la resa, quando sono sotto l'effetto, di biscotti, il fugiolo a forestare, è utile, per ora, eh, addestramento, dei vagabondi, e la tempesta, imparano come viaggiare, nelle terre selvagge, dai migliori, i vagabondi, tutte le vie commerciali, sono il 40% più veloci, o ti in 5 pack bendo, per ogni 10 insetto, potremmo prendere quella, perché, prospetto, che prima o poi, dovremo iniziare a coltivare, anche i cereali, però per il momento, ci accontentiamo, ora, grazie a Dio, possiamo fare la trattoria? Cosa produce questo, mi perdoni? Fiber vegetale, bacche, sai che mi sa, che abbiamo fatto una cazzata, perché in tutto questo, con tutto quello, che ci proponevano, abbiamo preso proprio, quello che ci serviva, cioè quello che fa il vino, e questo mi fa, pragmaticamente arrabbiare, porco Giuda, dammi quello che fa il vino, dammi quello che fa il vino, dammi quello che fa il vino, e devo cambiarlo, no buono, no buono, assolutamente, no buono, per aumentare il livello di questo focolare, devi costruire almeno, un edificio di servizio, come la taverna e il tempio, all'interno del suo raggio d'azione, ecco a te, nemmeno devi parlare, guarda la metto proprio qua, di fronte, che bella, la taverna, si affaccia sul mercato, ok, la via è costruita, ma credo che assolutamente, qui ci serva, necessitiamo, in assoluta, in magna, totale, assolutezza, abbiamo necessità, di creare, un altro coso, perché, non ci basta, uno, non basta assolutamente, dammi castori, affanculo, tu e ste cazzo, di volpi di merda, con tutto il rispetto, eh, ma porco giuda, vecchio, franfluffaf, mi ero così tanto impegnato, a trovare una zona, che mi ero totalmente, dimenticato, che ci serviva, un po' più di vino, ecco, tanto più di vino, un boato di vino in più, ma cos'è che manca, mi scusi, la legna lavorata, giustamente, se non l'abbiamo, flanflufflaff, vendo le botti, me ne dai solo 5, e siamo costretti, a venderti la legna, 20 e 20, così almeno, non abbiamo problemi, per un bel po' di tempo, ok, tolgo un po' di pietro, di legna, ok, perfetto, commerciamo, tanto ora mi darà qualcosa di merda, vino, andiamo, andiamo al rifugio del druido, che possiamo fare i mantelli, e non c'è quello che mi serve, puttana tua madre, puttana tua madre, qui stiamo continuando a battere alberi, qui li abbiamo bellamente abbattuti, e a questo punto ci scostiamo, leggermente in questa zona, e me li abbatti anche qui, perché no, visto che ne abbiamo, 9 di attrezzi, se non ergo, sì, perché no, ci apriamo uno di questi grandi, alla fine tavolette, ora per quanto buone, belle siano, direi che ci occupiamo, più che altro, di togliere di mezzo questa cosa, ok, qui ne abbiamo costruito un altro, pelli, roccia, e spegno un po', uno, ma mettiamo gli umani, le volpi possono essere sempre utili oggettivamente, officina, cosa permette di fare, strumenti, attrezzi, e pacchi di materiali edili, qui solita cosa, più o meno, a punto che ci serve il vino, potremmo fare anche lo scaccomatto, dei beni per uso commerciale, però fino a quando non abbiamo, il coso, la vedo molto difficile, sistemare il tutto, la vedo molto, ma molto difficile, onestamente, qui al mentre stanno smontando il tutto, non ne posso che essere ben lieto, bene prego, oh, evento lo dura con te dato, perfetto, eh, dammi il tè, madonna sei la mamma puttana, oh, una cazzo di cantina, da quanto tempo la stavo aspettando, porca troia, ero lì in altro po', ti doveva far, ti si voleva far pregare, per far uscire sta cazzo di cantina, di merda, veramente, oh, gli ultimi due incarichi, 16 umani, ma ce li facciamo tutti, cioè in realtà già li abbiamo, la mamma troia, tre secondi fa ne avevo 50, vaffanculo, cioè ne avevo tre già pronte, basta determinazione dei volpi, no problem, bruciamo un pochino di più, tanto un po' di legna, ne abbiamo a buttare, guarda là, cazzo, sai che ci siamo dimenticati sta roba, è 50% in meno per i mercanti, un punto in pazienza, ce lo siamo guadagnato così, l'altro beh, è anche buono che, facendo questa roba, dobbiamo rischiare, sì, rischiamo, è necessario rischiare, ok, tutti belli e felici come prima, gli umani l'abbiamo sistemato, mancano gli ultimi due incarichi, ma ci facciamo ora al volo, tu hai finito le uova, ma tanto qua c'è un buato di uova, dove stanno le uova? guarda qui, raccogli tutte queste uova, avrai voglia quanto tempo per sistemare, allora tutti i piazzi qui, visto che ci sei, mi fai un piccolo buchetto qua, ok, così ci guadagniamo le tavolette antiche, tra poco abbiamo anche il tutto, dei materiali che ci servono, qui credo che i migliori, appunto, siano gli umani, bacche e funghi, usa le botti, sottaceti, usa le botti, mettiamo i sottaceti nelle botti, immagino che schifo veramente, però va bene, facciamo finta di nulla noi, ma usami anche un po' pure di carbone, ok, perfetto, così ora abbiamo anche un bel po' di cibo lavorato, bello prestante, però è anche vero, cazzo, usa le botti, però ce ne dà 10 di vino, attenzione, non è da sottovalutare, non è per nulla da sottovalutare come cosa, è utile, bene o male alla fine l'abbiamo risolta la questione, certo, in maniera veramente pessima, mi bruci il carbone pure tu, che cazzo dai, oh no, pure l'idro dei pesci, me lo bruci pure, ok, questa armonia, perché no, dovrebbe anche fungere bene, lasciando che qui abbiamo avuto sempre lo stesso problema, abbiamo iniziato a costruire case, robe, non hanno completato un'emerita minchia, cioè ci mettono 40 anni a costruire due cazzate, abbiamo già due bei pezzi di armonia, due livelli, due livelletti di armonia, se così lo vogliamo chiamare traccia, noi qui c'è una quantità, isuberante proprio, isuberante, 2-2-2, assolutamente sì, così vi metto qua a lavorare, tutti quanti belli, audaci e fieri, e andiamo nei taglialegna, che praticamente i taglialegna sono ancora popolati da, umani, fondamentalmente, qui vedo che ci si stanno mettendo pure d'impegno, mancano due tacche, due sole tacche signori, questo dobbiamo completare, tavoletta antica, ok, spero che sono le prime cose che prendono, così in linea di massima, abbiamo completato, al massimo dovremmo fare qualche ventino in più, ma sì dai, fammi un bel tunnelone, traforo magnifico, tagliapietra hanno finito, vabbè per ora tu mi prendi questa, visto che ci siamo sulla via, molto più easy, cazzo ragazzi c'è la legna, è impossibile, non riuscite a fare cazzo la legna, più forte di voi, essula dalle vostre competenze, Zog dammi qualcosa di utile, la capienza del deposito edificio aumenta di 10, più 2 la produzione di ceramica, qualsiasi agricoltore può trasportare 5 oggetti in più, adesso i biscotti possono prodotti nella carbonaglia, nel mulino a pioggia, un po' deludente per Zog, un po' deludente, ok ci manca un solo punto, questo ci dà un punto intero, Zog mi dai 7 strumenti, ok, ti vendo una bella tavoletta, vale 8, ti vendo dei pacchi di beni di lusso, ok, però siccome sono avaro come la morte, almeno, creiamo un equilibrio, le va? Oh, perfetto, è così, signori, possiamo completare, questa piccola e simpatica missione, è andata anche, devo dire, molto, molto, molto tranquillamente, ne sono felice, abbiamo avuto un po' un intoppo, che sembra che ora appena si stia sbloccando, però in linea di massima, sono veramente felice di come sta andando, mi dai una priorità a 5, ah, vai esplorare, signori, sono abbastanza pragmatico, ripeto ragazzi, mi è piaciuto, ne sono più che felice di averlo provato, sono felice che la World of the Doors, mi ha dato la possibilità di provarlo, molto anche, però, purtroppo, prima o poi, questo sarebbe, sarebbe, questo momento sarebbe dovuto arrivare lo stesso, quindi, possono dire che ho un po' anticipato l'inevitabile, sì, magari, lo ammetto, forse anche eccessivamente, però, ora come ora, credo sia necessità, di svernare un po' il canale, perché letteralmente è fermo da quest'inverno, con le solite sedie, credo sia il momento, di cambiare un minimo, le carte in tavola, quindi, torniamo assolutamente all'acqua del mondo, e che dire, in questa felice grande avventura, sono felice che, il tutto sia andato, tutto sommato, per il meglio, ringrazio tutte le persone che mi hanno seguito, tutte le persone che hanno commentato, in tutta questa lunga serie, e ora più che mai, sono costretto a lamentarvi che tempo tiranno, ci becchiamo, non in un prossimo video, ma direttamente, in una prossima serie. Sous-titrage Société Radio-Canada